Ciao, benvenuti alla nuova puntata di Alta Fedeltà, un programma in cui gli europarlamentari si svelano attraverso una playlist di cinque libri, canzoni, video o film. L'ospite di oggi è una donna genovese, europarlamentare del 2014, è stata assessora provinciale, assessora regionale, la presentiamo con il primo video della sua playlist Non ti muovere, di Sergio Castelletto. Prego, la regia. Io ti amo, mi amico. Se mi prendi in giro ti ammazzo. Tammazzo. L'ospite di oggi è Renata Briano, ti salutiamo. Ciao Renata, benvenuta. Ciao, benvenuta. Ciao a tutti, grazie. Ti chiediamo perché hai scelto questo bellissimo romanzo? Ma perché è un romanzo che parla di sentimenti, soprattutto in contrasto anche un po' con un certo perbenismo che a volte impera tra le persone. Parla di emozioni vere che riescono in un libro, e questo è molto difficile che accada, a commuovere il lettore. Io mi sono davvero commossa. Margaret Mazzantini è stata perfetta nella descrizione di questo romanzo, che poi si è tradotto in un libro e in un film altrettanto bello. L'ho messo per questo, perché racconta un po' di me e delle emozioni che appunto anche attraverso un libro si possono provare. Credo che sia bello questo. È emozionante anche, immagino, come te essere legata alla terra e al mare, la regione da cui provieni. C'è un'iniziativa o qualcosa di cui andare fiera nell'arco di questa legislatura, di questa tua esperienza parlamentare? Sì, in Pesca abbiamo trattato tantissimi argomenti. Ce n'è uno a cui tengo particolarmente, che non è soltanto un tema ambientale. Lo è perché la salvaguardia del tonno rosso ha portato, diciamo, da una specie che era in via di estinzione, adesso ha uno stato, diciamo, migliore. Adesso il tonno rosso sta meglio. Il problema è che lo si è fatto attraverso le quote e queste quote non sono state date in modo equo. Soprattutto nel nostro paese sono in mano soltanto a 12 armatori. Qui in Europa siamo riusciti attraverso una battaglia di emendamenti che ho proposto ad avere un voto quasi unanime e questo mi rende fiera perché ho cercato di mettere insieme quella che per me è la sostenibilità ambientale a quella sociale e devono andare in parallelo queste cose. Certamente, certamente. Bene, è arrivato il momento di guardare il secondo video, adesso. Una clip che ci presentano Gregory Baitenson e il suo libro Verso un'ecologia della mente. Un libro e un autore decisamente interessanti. Come mai questa scelta? Perché è nella tua playlist? Perché nel passato, io ho studiato scienze naturali, mi sono occupata di educazione ambientale e quindi anche di educazione alla complessità. In questo mondo invece è dove tutto tende a essere semplificato in messaggi molto, a volte anche banali. L'ecologia è una rete di relazioni complessa, non è mai tutto così scontato, ma anche la nostra mente lo ha. Il libro tratta appunto la mente umana è come se fosse un sistema ecologico e lo fa in modo interdisciplinare. Penso che anche la politica dovrebbe occuparsi in modo interdisciplinare delle cose. Su questo la vedo un po' più armi. Sarà un percorso più difficile, immagino. Sì, è complicato. Però qui in Europa, insomma, le commissioni si parlano tra di loro. Forse qui siamo un passo avanti rispetto alle politiche nazionali. dal mio punto di vista si riferiva all'Italia, più che all'Europa. Renata, ci sai dire tre parole con le quali ti descriveresti? Mamma, cuoca, perché ho una passione per la cucina innata, e naturalista, perché ho studiato scienze naturali. Poi ho due tessere a cui tengo particolarmente, quella dell'ampi e quella del cai, perché amo molto anche la montagna, oltre al mare. Adesso guardiamo il prossimo video, il terzo della playlist. Se ti tagliassero a pezzetti, cantata da Fabrizio De Andrè, ed è un filmato della Rai. Da genovese, come me oltretutto, il legame con Faber è indissolubile, fortissimo. Sbaglio? Cos'altro si può dire? Fabrizio De Andrè rappresenta la genovesità, quindi tutti noi genovesi siamo, ma penso tutti gli italiani, siamo particolarmente legati. Però lui racconta, parla dei deboli, sempre degli esclusi, quindi anche questa è la ragione per cui ho scelto. Avrei potuto scegliere qualsiasi canzone. Ho scelto questa, perché è particolarmente dolce, particolarmente bella, e lui l'ha scritta subito dopo il rapimento che ci aveva tenuto tutti molto in apprensione. Però è soltanto un simbolo questa canzone. In tutte le sue canzoni, lui ci manda un messaggio anche politico che dobbiamo saper raccogliere, che è ancora attuale, ancora ai giorni nostri. Qual è l'intervento che porta il tuo nome a favore del territorio, della zona da cui provieni? Sì, sempre nel settore della pesca ho portato avanti, sul suggerimento della piccola pesca artigianale, dei gruppi di azione locale, un'iniziativa sul pescaturismo e l'ititurismo, che mettono insieme appunto la sostenibilità della pesca con il turismo sempre sostenibile e che sono attività che stanno nascendo in Italia e anche un po' in tutta Europa come integrazione del reddito dei pescatori che non stanno attraversando un momento molto facile. Ne hai incontrati molti in questi anni immagino. Sì, ho girato molto in Italia e non solo, anzi girerò anche ancora per l'Europa per capire. Devo dire che poi le problematiche sono un po' uguali da tutte le parti, soprattutto la più sacrificata è la piccola pesca artigianale e con questa iniziativa cerchiamo anche non soltanto di rivolgerci ai pescatori ma ai consumatori, perché noi dobbiamo partire dall'educazione del consumatore. Il pescaturismo e l'ititurismo lo fanno cercando di suggerire a tutti noi consumatori in Europa consumiamo quattro volte il pesce che peschiamo, quindi noi importiamo tantissimo. Ecco, per rendere la pesca sostenibile dovremmo come consumatori imparare per esempio a consumare specie meno conosciute, quindi a incidere di meno su alcuni stock che sono adesso in crisi biologicamente e quindi è un'iniziativa che ha trovato il favore e sto girando sul territorio ci sono diciamo i titurismi e i pescaturismi meravigliosi che suggerisco a tutti. Bene. Mi mangiare una bella frittura di acciughe adesso per celebrare ad Andrè. Sì, sì, ma addirittura alcuni pescaturismi, i titurismi propongono anche nelle zone di mare dove ci sono i turisti i cartuccini invece che di patatine fritte di pesciolini e sono iniziative carine e soprattutto anche per i turisti magari europei che arrivano in Italia o in Liguria dall'estero. Quarto video della playlist di Renata è un cartone animato di Walt Disney stupendo Robin Hood mandiamolo adesso con la regia. Robin Hood e Little John va per la foresta ed ognun con l'altro ride e scherza come vuoi sono felici del successo delle loro gesta urca urca ti rulerò ci splende il sole Credo che tutti abbiano visto questo per figli o perché siamo stati piccoli o perché abbiamo avuto figli ed è molto carino il Gallo Cedrone che racconta le avventure di Little John e Robin Hood come mai l'hai inserito nella tua playlist? Beh perché i bambini noi quando facciamo politica dovremmo pensare ai bambini perché dovremmo pensare al futuro e quindi in una prospettiva più ampia che spesso non è facile perché invece ci troviamo a gestire le emergenze del momento quindi prima cosa perché parla ai bambini e soprattutto perché lancia ai bambini un messaggio di giustizia anche qui sociale e insomma Robin Hood che ruba i ricchi cattivi per dare ai poveri mi sembra un messaggio che non abbia bisogno di altre spiegazioni sì Robin Hood al contrario ci deve spaventare molto e siamo qui per combatterlo Un po' come Robin Hood tu che cosa ti senti di difendere di questa Europa? Beh dell'Europa difendo i principi per cui è nata la giustizia la giustizia la pace la solidarietà tra i popoli e purtroppo in questo momento non sempre questi principi sono così evidenti però diciamo è di questo che è per questo che noi stiamo lavorando perché l'Europa riprende in mano questi principi e li trasformi anche rivedendo i trattati in qualcosa di ancora più concreto però non dimentichiamoci che sono 70 anni di pace lo dico a tutti e spesso si dimentica o si gioca sulle paure per far nascere nazionalismi che poi portano a pericolose derive assolutamente sì d'altra parte la pace nasce dalla solidarietà con gli altri non nasce mai dallo scontro adesso guardiamo l'ultimo video della playlist una scena tratta dal film Into the Wild di Sean Penn abbiamo scelto questo video che mostra l'Alaska nella storia straordinaria di Chris McCandless e sappiamo che sei particolarmente legata a questa terra cosa ci vuoi raccontare è un viaggio è un viaggio che ho fatto parecchi anni fa io quando ho iniziato a studiare scienze naturali non pensavo poi di ritrovarmi in politica in realtà il mio sogno era fare documentari naturalistici e infatti questo viaggio in Alaska è stato come immergersi in un documentario naturalistico perché è una terra meravigliosa direi praticamente incontaminata dove è possibile vedere praticamente tutta la fauna selvatica la natura immensa meravigliosa questi ghiacciai questi iceberg che si formano direttamente dai ghiacciai dalle montagne alti 5.000 metri sul mare quindi anche qui mare e montagna insieme ho un sogno che è un altro luogo del mondo dove diciamo le scienze naturali si sono evolute attraverso i principi dell'evoluzione con Charles Darwin che sono le Galapagos e poi io vivo un po' tutti i viaggi anche in Italia abbiamo luoghi meravigliosi naturalistici se posso io tendo a viaggiare più in mezzo alla natura che nelle città soprattutto le grandi città mi piacciono invece i piccoli piccoli villaggi sì e credo che siano forse luoghi anche più trascurati sempre da dagli amministratori dalla politica è un errore che forse abbiamo fatto anche noi nel passato spero di insomma di riprendere in mano tutti questi argomenti e qui di biodiversità parliamo tantissimo quindi sono contenta posso chiederti a brucia pelo che cosa cambieresti di questa Europa di questa Europa cambierai gli egoismi degli stati perché come dicevo prima il principio di solidarietà sarebbe quello che dovrebbe guidare l'Europa verso gli Stati Uniti d'Europa che però questo percorso non è compiuto spesso prevalgono gli egoismi lo vediamo ancora di più sono argomento di attualità lo vediamo sul tema dei migranti ma anche su tantissimi altri temi e questo fa sì che l'Europa non abbia fatto quel salto in avanti che doveva fare appunto verso gli Stati Uniti d'Europa direi che siamo arrivati alla fine di questa puntata Renata veramente grazie mille per questa chiacchierata per aver condiviso con noi le tue passioni e le tue storie grazie per essere stata con noi e salutiamo gli amici che ci hanno seguito sul sito sui social vi ricordo la hashtag AltaFedeltà e ci vediamo alla prossima puntata arrivederci ciao 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 ciao